Annunciamo il bando per la realizzazione di nuovi edifici strategici, quegli edifici che devono essere realizzati per garantire in caso di emergenza la possibilità di gestire fenomeni che ovviamente noi non ci auguriamo di dover vivere in Calabria ma che comunque essendo la Calabria una terra sismica a forte rischio sismico dobbiamo ovviamente prevedere. È un bando riservato alle pubbliche amministrazioni, quello presentato alla cittadella regionale a Catanzaro per far fronte al rischio sismico e quindi finalizzato al finanziamento degli edifici strategici per una dotazione finanziaria di 38 milioni di euro. Avere gli edifici strategici in tutti i com, in tutti i centri di coordinamento già pronti significa che la popolazione ha dei riferimenti forti, lo Stato è presente, la regione è presente, sappiamo esattamente quello che succede come in Giappone, come in tutti i grandi paesi. Il bando che noi stiamo pubblicando adesso nasce proprio perché quello precedente, quello di febbraio, non ha esaurito le risorse, cioè la quantità di progetti che sono stati premiati, praticamente abbiamo finanziato tutti i progetti che erano in regola e sono rimaste risorse. Noi abbiamo messo in cantiere risorse importanti perché quello della messa in sicurezza del patrimonio dell'edilizia scolastica, del patrimonio degli edifici pubblici è un problema che bisogna affrontare con priorità. Rossella Galati per la Cinews 24